Nei giorni scorsi alcune centinaia di cittadini hanno sottoscritto e trasmesso una nota al presidente dell'Aggiunta regionale, al presidente della provincia di Crotone, al sindaco di Cutro e al prefetto di Crotone. Obiettivo della nota è quello di denunciare che ad oltre un anno di distanza dall'esondazione del fiume Tacina, avvenuta la notte del 4 dicembre 2022, che ha causato ingenti danni alla popolazione di località Votapozzo e a quella ridosso del litolare a nord della Foce, nella frazione steccato di Cutro nessuna azione è stata intrapresa per evitare il ripetersi di quella calamità. I sottoscrittori hanno informato le autorità in indirizzo sull'aggravarsi della situazione e su come ciogeneri nelle abitanti e proprietari di immobili in quelle località un'ansia crescente ad ogni minima previsione meteorologica avversa. Basta infatti dare una semplice occhiata al fiume per constatare il completo venirmeno del suo alveo in alcuni tratti e capire così che può bastare una precipitazione inferiore a quella del 2022 per causare danni molto più devastanti. I sottoscrittori concludono con un richiamo molto netto ai destinatari della nota che hanno la responsabilità della sicurezza dei cittadini e del territorio di loro competenza, invitandoli a mettere in moto con assoluta urgenza ogni azione e ogni strumento in loro possesso per ridurre il rischio di un disastro altrimenti annunciato che se dovesse verificarsi porterebbe nome e cognome precisi dei responsabili.